Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch Il mio nome è come sempre Quittano Hate e quest'oggi siamo tutti qui riniti Per guardare un'altra prova e che appare, possibilmente, un altro cheater Quindi, andiamo a vedere la prova di oggi Let's do this Ok ragazzi, ci siamo Il sospettato è pronto Siamo su Das 2 Sospettato usa lo scout Vediamo un po' cosa dovrò fare Sospettato sta laggando per quanto mi riguarda Sta laggando parecchio anche Zio Zio lagghi I'm calling walls I'm calling walls, non l'ha sentito per niente Non l'ha sentito proprio per niente A parte il fatto che sta laggando sul serio E non è il mio computer Quindi complimenti a lui Comunque si, I'm calling walls Perché vede la gente attraverso le smoke e i muri Quindi è evidente la cosa Cioè, perché dobbiamo beccare? Cioè, questo lagga e usa wallack Tipo per pareggiare le cose, suppongo Dio quanto scatti Che schifo Madonna mia la scarsezza Attenzione Attenzione Ah, ok Beh, è andato a sparare A quello sopra Non è che gli scatta anche la mira Andiamo un po' quanto pingano Aspetta lo pingano 99 Quindi si sta laggando lui Mmh Attenzione, attenzione Sa che è lì, sa che è lì, sa che è lì E muore male Perché vuole fare la kill di Zeus Nonostante lui abbia ovviamente Il wallack Quindi è abbastanza easy la cosa Nel sapere dove sono Dove è la gente Non riesce comunque a uccidere Perché è scarso Credo sia anche aimlock Credo sia anche aimlock Guarda, guarda Guarda, sì, sì, è aimlock È aimlock Quando spara easy lock sul target È pure aimlock, c'è capite? C'è tutto E l'abbiamo beccato subito Che schifo Ogni volta che spara Locka sul bersaglio Ogni volta che schiaccia Il tasto per sparare C'è un delay Locka sul bersaglio E spara Che schifo Cioè come fai a giocare così? Perché giocare così? Soprattutto perché pingia merda Quindi Anzi no, lui sta pingando No, no, sta pingando 100 In questo momento Comunque è palesemente aimlock Avete visto come ha lockato anche Il tizio sotto in window? Va là Va là Mi stava cercando di sparare attraverso la cassa Va bene che si vedeva La bomba è lì La bomba è lì La bomba è lì Ok, bravi Che vero schifo Oh, all'ultimo l'ha ambeccata Che culo Che culo ma che schifo Comunque Che questo veramente Cioè Senza pudore Senza pudore alcuno Il bello è che ce l'ha settato In modo che sia Pseudo Non Visibile Cioè se lo guardiamo Così Senza gli x-ray Che è quello che vedrebbero i suoi compagni Quando sono morti A me sembra che Ha appena lockato sul tizio in short Ha appena lockato sul tizio in short Sì Questo sta facendo passi Ok Ma lui l'aveva mirato molto prima dei passi Bella sta flash Complimenti Comunque aveva appena lockato sul tizio in short Va lì E schiaccia il tasto Eh Il lag però Il lag Dà un po' di difetto A lame lock Che schifo Che schifo Veramente Attenzione Attenzione Guardate Bam Presa attraverso la cassa Bam Bam Ogni tanto L'ame lock Mista perché magari si è in movimento Etc Etc Mi sta guardando attorno Oddio il tizio in lunga non riesce a colpirlo Cioè sul serio Questo tizio in lunga non è riuscito a colpirlo con la deagle Era fermo eh Che schifo Guardate come si libera Del suo M4 Perché tanto a lui non serve Comunque si Il lag e il fatto che lui si muova mentre spara ogni tanto non fanno colpire l'ame lock Ma è da aspettarselo Nel senso L'ame lock va sul bersaglio visivo Ma il problema è che se lag il bersaglio non è propriamente dove stai sparando realmente Quindi c'è un problema di fondo Attenzione Balla C'è questo HS Che mentre sparava si è spostato in su Eh sì sei forte sei fortissimo guarda Bello un atomic alloy che perderai male Fantastico Complimenti No Facciamo perdere questa atomic alloy Che cazzo stai facendo? Guarda Si sta chiedendo anche lui come mai non riesce a colpirlo Asht 2 attraverso Attraverso la porta Ecco la smoke che arriva Ecco la flash Smoke il trotto controproducente Per chiunque voglia fare il retake Però va bene perché questa è una smoke che dovrebbero tirare i terro Tira la flash Si blinda male Non riesce a passare dalla porta Tira una Un HE Cerca di andare a prendere il tizio con la Zeus Oddio santo è fuori Ok Riesce a uccidere l'altro tizio là Poi Manatea arriva e uccide l'altro Dai è sempre piazzata nello stesso punto ragazzi Ragazzi è sempre nello stesso punto È sempre nello stesso Ho capito che laghi ma porca la puttana Dai la vedi La vedi che è lì Ok Ce l'ha fatta Dio santo lo schifo Lo schifo vero Va lì attraverso Attraverso la smoke C'è ucciderlo in testa Adesso sente i passi però Eccoli l'altro HS Ha visto però HS Bene Gli aveva fatto un'altra No non era un HS Gli aveva semplicemente colpito E poi va a prendere l'altro con la Zeus E riescono a vincere così Comunque Gli do aim assistance sicuramente Vision assistance sicuramente A Drexan possiamo dare Griefing nemmeno Ma questo Era uno stronzo Di elevata categoria Cioè dai Laggi Ok Quindi già ci hai fatto venire Mal di mare Perché laggi Per vedere l'overwatch Poi Hai Hai Lame assistance sicuramente E hai vision assistance Sicuramente No? Cerchi di fare il figo Andando per le kill di Zeus Cioè sei proprio una merda No? Meglio che saluti il tuo Tommy Calloy Amico mio Perché noi Ti abbiamo beccato Il mio nome è come sempre Quintano8 Ragazzi fatemi sapere Cosa ne pensate nei commenti Ciao a tutti Quintano8 Gioco ai videogames da quando avevo Due anni Adesso sono il re del let's play Quintano8 Quintano8 Quintano8